Buonasera a voi da Basto, come dicevi siamo con il coordinatore regionale della Lega Luigi Deramo che ringrazio per aver accolto il nostro invito. Salvini è tornato in Abruzzo a distanza di pochi giorni dalle ultime visite ad Avezzano e all'Aquila. Allora ascoltiamo subito l'intervento di Matteo Salvini e poi lo commenteremo insieme all'Onorevole Deramo. È una follia nel momento in cui è pieno di italiani che non hanno ancora preso la cassa integrazione che ci sia qualche parlamentare aggrappato alla poltrona e ai vitalizi è disgustoso. Saremo in tutte le piazze italiane e anche abruzzesi nel weekend del 4 e 5 luglio per raccogliere le firme contro la sanitaria per gli immigrati, per fermare le cartelle di Equitalia e per fermare anche il ritorno dei vitalizi. Segretario, volete il candidato sindaco anche a Vasto? Una cosa per volta. Sono contento di quello che la Lega sta facendo in Abruzzo e per gli abruzzesi. Sono contento delle squadre che abbiamo presentato a Chieti e a Avezzano. Vasto è una bellissima città, 40 mila abitanti che d'estate raddoppiano e mi risulta che ci siano non uno ma diverse donne e uomini che si stanno preparando per prendere in mano le redini di questa città. Però una cosa per volta. Sono contento di quello che la Lega sta facendo in Abruzzo e dell'affetto che gli abruzzesi ci riservano. Questo è un passaggio che abbiamo organizzato in 4-4-8. Vedere così tanta gente per me è motivo di orgoglio. Abruzzesi e che cosa apprezzano? Terra fiera, terra dignitosa, terra di lavoro. Non chiedono aiutini, assistenza, beneficenza. Lavoro, lavoro, lavoro. È quello su cui ci stiamo impegnando. Vuol dire infrastrutture. L'Abruzzo non può essere isolato. È una terra stupenda con un mare incredibile, un interno anche più bello. Lavoro e infrastrutture. È quello su cui ci stiamo impegnando. Abbiamo delle proposte in Parlamento, modello Genova per sbloccare i cantieri, sostegno alle imprese e sostegno al turismo. Qua siamo in una splendida località di Mare. Il bonus vacanze partorito dal governo è, per citare Fantozzi, una boiata pazzesca. Perché dovrebbe essere anticipato dagli imprenditori che già hanno i loro problemi. C'è poi il tema sicurezza legato all'immigrazione, che coinvolge diverse realtà abruzzesi. Su questo come Lega saremo assolutamente attenti. No, se una persona mi vuole stringere la mano e mi guarda negli occhi, io ci sono. È giusto essere attenti, però i dati scientifici e medici dicono che fortunatamente i reparti di terapia intensiva, i pronti soccorsi si sono svuotati. Bisogna stare attenti, però bisogna stare attenti anche al fatto che la fame e la disoccupazione non facciano più vittime del virus. Quindi chiudere tutta oltranza mi sembra la risposta sbagliata. Penso alla scuola, penso all'incapace ministro Azzolina. Vogliamo dei bimbi in classe con certezze, senza mascherine, senza plexiglass, con insegnanti veri, con ore piene, con palestre frequentabili e non a distanza. Per le amministrative avete trovato la quadra con Forza Italia e Fratelli d'Italia, a livello locale, però c'è qualche tensione? Tutto passerà perché prima vengono gli abruzzesi, quindi noi abbiamo dimostrato enorme generosità quando si è trattato di votare per la regione Abruzzo, per il comune dell'Aquila, per il comune di Pescara, per il comune di Teramo. Diciamo che come primo partito italiano e abruzzese abbiamo le idee ben chiare. Abbiamo ascoltato il leader della Lega Salvini, il leader della Lega ha parlato di diversi temi, ha parlato anche di Abruzzo e a proposito è spesso in Abruzzo in questo periodo? Tre visite in 20 giorni, questa è la dimostrazione che Matteo Salvini ha un'attenzione particolare per questa regione, anche perché credo che i risultati che abbiamo ottenuto come Lega, come gruppo Lega, come assessori in giunta della Lega in questo anno siano risultati importanti. Basti semplicemente pensare alle due manovre finanziarie che abbiamo messo in atto proprio su iniziativa della Lega durante il lockdown e che hanno dato risposta con una serie di contributi anche importanti a fondo perduto agli imprenditori, ai commercianti, agli artigiani, ai professionisti e alle partite in IVA in generale che sono quelle più colpite, sono state quelle più colpite a causa del Covid. Quindi credo che l'Abruzzo a locomotiva Lega, la regione Abruzzo a locomotiva Lega sia diventata un modello da seguire anche per le altre regioni italiane. Salvini ha toccato anche il tema delle infrastrutture, un tema che per quanto riguarda l'Abruzzo è un ponte mannoso, si parla tanto dell'alta velocità Pescara-Roma e anche del raddoppio della linea adriatica, quanto è importante per l'Abruzzo essere collegato con il resto della penisola? È fondamentale sia per le zone interne che per quelle costiere, è una discussione questa che va avanti da oltre 30 anni e credo anche che le ultime uscite del governo PD 5 Stelle per bocca del Premier Conte di fatto siano l'ennesima presa in giro, si parla di alta velocità, non si citano fondi, non è chiara la progettazione, credo che il governo dovrebbe avere il coraggio di puntare sullo sviluppo infrastrutturale dell'Abruzzo perché è l'unica risposta immediata che potrebbe dare lavoro, occupazione e stabilità economica. Arriviamo al nodo amministrativo che è un po' il tema caldo di questi giorni perché a settembre si voterà in due importanti comuni abruzzesi ovvero Chieti e Adavezzano. A Chieti in particolare la Lega sostiene il proprio candidato Fabrizio Di Stefano e a proposito di questo ci sono state un po' di tensioni possiamo dire perché Forza Italia inizialmente non voleva sostenerlo poi c'è stato un accordo tra Berlusconi, Salvini e Lameloni per un centrodestra unito e compatto però che a livello locale non ha soddisfatto tutti, parliamo ad esempio di Mauro Febbo che si è autosospeso dal partito. Voi credete ancora in un centrodestra unito? Per noi il centrodestra unito è un valore, d'altronde il centrodestra unito ha vinto tutte le competizioni elettorali che si sono succedute negli ultimi quattro anni e non potrebbe essere diversamente. Abbiamo valori comuni, abbiamo programmi comuni, chiaramente la Lega è il primo partito della coalizione quindi nel caso specifico dell'Abruzzo dopo che in maniera assolutamente responsabile abbiamo fatto un passo indietro proprio per l'unità della coalizione all'Aquila, a Teramo, a Pescara, alla regione Abruzzo credo che i cittadini vogliano dei sindaci che siano direttamente espressione della Lega in più nel caso specifico di Chieti ma anche di Avezzano abbiamo persone altamente qualificate Fabrizio Di Stefano è un politico assolutamente maturo, è un bravissimo amministratore quindi credo che sia la persona e la figura migliore per dare un rilancio reale e concreto al capoluogo di provincia poi per l'amor di Dio le posizioni dei singoli, rimangono posizioni dei singoli noi non polemizziamo né tantomeno vogliamo neanche soffermarci rispetto a sottolineature che qualcuno fa a noi interessa parlare ai Chietini, a noi interessa parlare agli Avezzanesi del resto è a queste persone, a queste due cittadinanze che dobbiamo dare delle risposte che si aspettano, lo ripeto ancora una volta, dal primo partito della coalizione in Abruzzo e sia a Chieti che ad Avezzano. Siamo a Vasto, quindi state lavorando anche per esprimere un candidato sindaco, leghista anche qui a Vasto? Noi avvertiamo il peso della responsabilità, del resto quando si guida una coalizione importante come quella del centro-destra bisogna assumersi le responsabilità. Vasto è una città strategica sia da un punto di vista economico della realtà economica sia da un punto di vista del turismo è una città che è governata da 15 anni, mal governata da 15 anni dal Partito Democratico e quindi credo che meriti la possibilità non solo di cambiare governo ma che si attino su Vasto tutta una serie di politiche che nel corso di questi anni non sono mai state prese in considerazione ed è per questo che iniziamo da subito a costruire un progetto alternativo a quello fino ad oggi offerto dal Partito Democratico sarà composto di 10 punti sui quali già stiamo lavorando che apriremo al confronto con la città, con gli ordini, con le professioni, con le categorie con il mondo del terzo settore, anche con la realtà dei sindacati perché crediamo che soltanto attraverso un percorso di grande partecipazione e condivisione si possano evidentemente dare delle risposte alle mille problematiche che questa città vive abbiamo una classe dirigente su Vasto che posso definire tra le migliori che abbiamo all'interno del partito in Abruzzo ovvero è che esprimiamo ben due consiglieri regionali e siamo l'unico partito che ha eletto due consiglieri regionali nella stessa città quindi abbiamo una classe dirigente che può tranquillamente aspirare a ricoprire il ruolo di candidato sindaco In conclusione onorevole, anche qui erano presenti alcuni contestatori come era già accaduto all'Aquila e ad Avezzano allora noi abbiamo ascoltato anche la loro voce ascoltiamoli e poi potrà rispondere come meglio crede Salvini è stato contestato nelle ultime venute in Abruzzo contestato anche a Vasto, cosa vi spinge a venire qui? Siamo un movimento politico, siamo dei liberi cittadini che casualmente ci siamo incontrati qui e penso che condividiamo lo stesso pensiero ovvero che il nostro problema non è la Lega anche se ci sono dei punti che noi non condividiamo della Lega ma non stiamo contestando la Lega stiamo contestando quel signore lì, il signor Matteo Salvini perché basta guardare l'ultimo mese di attualità e vedere che personaggio è se potesse mai essere eletto pensate quello che potrebbe succedere Se ce l'avessi davanti Salvini in questo momento, cosa gli diresti? Innanzitutto gli farei una lezione di storia prima di tutto di storia italiana sui diritti italiani, sulla democrazia perché non sa proprio cosa vuol dire e gli farei una domanda in particolare mi farei spiegare il rapporto che lui ha con i partiti e i gruppi di destra estrema di tutta l'Europa sia per lui e per la sua amica, la signora Meloni voglio vedere cosa mi risponde il signor Salvini Mi spiace non vedere qua i pentastellati soprattutto di Vasto che aveva un gruppo grandissimo e non ne vedo uno qua purtroppo con mio malincuore proprio Forse qualcuno è rimasto affezionato all'ex alleato No, no, anzi è un motivo in più per attaccarlo perché ci ha tradito Per cosa lo contesta maggiormente? Soprattutto, ma per tutto cioè per tutto per tutto non ci sta una cosa ci ha tradito una domanda che ti vorrei fare i 49 milioni di euro che ci ha rubato dalle mie tasse io sono agente di commercio lavoro su strade vergognose lo Stato non ha i soldi però i suoi 49 milioni pari a 100 miliardi le vecchie dire quante strade sarebbero i fatti? Quante strade sarebbero i fatti? Cosa possiamo rispondere ai contestatori? Ma il commento sinceramente lo lascio agli ascoltatori non è possibile commentare una sommatoria aritmetica di insulti privi di ogni ragionamento politico e di confronto democratico muovere delle accuse tra l'altro basate su fatti mai esistiti o comunque su sottolineature che non sono politiche offenderebbe l'intelligenza delle persone come si può parlare di sistemi non democratici quando si parla del leader del primo partito europeo di centrodestra italiano abruzzese e anche avvasto cioè milioni di italiani votano Matteo Salvini bisognerebbe avere semplicemente il rispetto pur non condividendo magari le idee che noi esprimiamo ma il rispetto perché il rispetto è la base di ogni forma democratica del resto sfido chiunque a vedere se alle manifestazioni dei comunisti ci sono militanti della Lega che vanno a disturbare le manifestazioni degli altri non lo abbiamo mai fatto perché abbiamo rispetto di tutte le posizioni di tutti i movimenti politici o civici che si vogliono esprimere grazie a tutti grazie a tutti